Il Presidente della Sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Luciano D'Alfonso, nella sua officina di Pescara, ha dialogato con la stampa in merito al disegno di legge, primo firmatario egli stesso, in discussione in Prima Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica su disposizione per la riforma della decisione pubblica e la razionalizzazione del procedimento amministrativo. All'evento, che il Presidente ha tenuto in presenza, hanno partecipato il professor Giacinto della Cananea, ordinario di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano, il professor Salvatore Cimmini, ordinario di diritto amministrativo all'Università di Teramo, la senatrice Valeria Valente, relatrice in Commissione Affari Costituzionali del disegno di legge. Ma cosa c'è al centro del progetto di riforma? Una grande razionalizzazione della decisione pubblica, del procedimento amministrativo, per fare in modo che le domande, le attese, le aspettative delle imprese, dei cittadini e dei territori trovino riscontro, soddisfazione con velocità, con appropriatezza e anche con facilità. Noi stabiliamo che dopo il 1990, sono passati 31 anni, i tempi per la maturità di un procedimento amministrativo non possono essere ancora 30 giorni. Tagliamo alla metà, cioè 15 giorni, per ogni procedimento amministrativo. Rendiamo obbligatoria la formazione permanente dei funzionari della pubblica amministrazione, una formazione che deve incrociare le innovazioni delle leggi riferite alla decisione pubblica. L'accesso alla pubblica amministrazione deve essere più semplice, attraverso anche la valorizzazione delle esperienze precedenti pubbliche e private, accademiche, così come nasce una nuova specifica di chi è il responsabile unico del procedimento, il RUP. Il RUP si insedia precisando in anticipo un preciso progetto di procedura, non più solo l'indennità derivante dallo stipendio, ma anche misure di compensazione aggiuntiva in relazione ai risultati raggiunti. Poi c'è il dissesto organizzativo dell'ente come nuovo istituto rispetto a quegli enti che dicono che faranno tanto e a 12 mesi dell'esercizio amministrativo si dimostra che non hanno raggiunto alcun risultato. Quell'ente, se ripete per due anni l'inefficacia nella sua attività di contrattualistica, patirà il dissesto organizzativo e nei fatti perde autonomia. L'altro dato molto significativo che noi abbiamo contemplato è che il procedimento amministrativo finalmente incontra l'immediatezza come valore e anche l'oralità.